Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max, la pagina politica in apertura. Il 12 ottobre sindaci e consiglieri comunali alle urne per eleggere nuovi presidenti di provincia e nuovi consigli provinciali a Chieti, Pescara e Teramo. A Chieti è sfida tra il sindaco di Lanciano Mario Pupillo per il centro-sinistra e il sindaco di Paglieta Nicola Scaricaciottoli per il centro-destra. A Pescara il presidente uscente del centro-destra Guerino Testa è sfidato dal sindaco di Abbatteggio Antonio Di Marco per il centro-sinistra. A Teramo infine il sindaco di Atri Gabriele Astolfi del centro-destra sfiderà il consigliere provinciale di Teramo Renzo Di Sabatino, ex sindaco di Bellante. Per eleggere il presidente sono necessarie 174 preferenze, 58 per un consigliere. Lontane dall'estere abrogate si torna a votare il 12 ottobre per eleggere i nuovi presidenti e i nuovi consigli delle province, enti che sono diventati di secondo livello. A votare infatti non andranno i cittadini ma solo i sindaci e i consiglieri comunali e solo per questa prima volta gli uscenti consiglieri. A Chieti il presidente uscente Enrico Di Giuseppe Antonio ha rinunciato a rappresentare il centro-destra che a sua volta ha indicato a rappresentarlo Nicola Scaricacciottoli, sindaco di Paglieta, sostenuto da due liste. Per il centro-sinistra ci sarà invece il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, sostenuto da una lista. Per eleggere il presidente sono necessarie 174 preferenze, 58 per un consigliere. Enrico Di Giuseppe Antonio Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con me, soprattutto chi mi ha sostenuto in questo difficile percorso della provincia che richiede da parte di chi verrà uno sforzo notevole perché la nostra è una provincia in gravissime difficoltà finanziarie che non riesce neanche a tagliare l'erba lungo le strade, una provincia che come oggi titola un giornale locale non c'è e si va a votare per via della riforma del Rio da una parte che ha svuotato di competenze questo ente e dall'altro c'è il percorso della legge costituzionale che abolisce definitivamente le province. Certo c'è un grande pasticcio che probabilmente contribuirà a rendere ancora più difficile la gestione dei servizi, dei pochi servizi che ovviamente l'ente deve assicurare con impegno soprattutto in vista della stagione invernale per quanto riguarda il piano neve. Cari Chieti, suscita pareri contrastanti il commissariamento della Banca Chietina, confesercenti da una parte sollecita la mobilitazione delle istituzioni, dall'altra parte confartigianato frena gli allarmismi. Commenti contrastanti dalle associazioni di categoria sul commissariamento di Cari Chieti se da un lato confesercenti sollecita la mobilitazione delle istituzioni, dall'altro confartigianato smorza gli allarmismi. Il sistema creditizio abruzzese subisce un colpo doloroso, dice Enzo Giammarino di confesercenti. Se i riflettori della Banca d'Italia si sono accesi su alcune operazioni di grandi importi, la verità, dice Giammarino, è che a pagare il prezzo più alto della probabile chiusura dei rubinetti saranno le piccole imprese che in Cari Chieti avevano uno dei pochi punti di riferimento per la concessione di fidi e finanziamenti necessari per affrontare la crisi. Daniele Giangiuli, direttore di confartigianato, invece spera di frenare le preoccupazioni dicendo che il commissariamento di Cari Chieti è differente da quello di Cari Pettercas perché i problemi contestati sono legati alla governance della banca e non alla solidità della banca stessa. Confesercenti invoca l'intervento delle istituzioni perché, dice il direttore Giammarino, le sole BCC non bastano e perché il solo continuare con la stretta creditizia di oggi vorrebbe dire mettere seriamente a rischio l'esistenza di migliaia di imprese abruzzesi. Giangiuli di confartigianato rassicura invece correntisti e imprenditori che per una vita si sono affidati alla storica cassa di risparmio. Il commissario Riccardo Sora aggiunge e svolga il suo lavoro con tranquillità e prenda tutto il tempo e di cui necessita per fare chiarezza e soprattutto per dare trasparenza sull'operato della banca dell'interesse di tutti i clienti che hanno diritto di conoscere la verità. Confesercenti, che rappresenta in Abruzzo circa 12.000 imprese del terziario e dell'artigianato, chiede l'apertura di un confronto serrato sul futuro del credito in Abruzzo. Se la banca centrale sta mandando segnali inequivocabili sull'insufficienza delle banche locali, dice Gianmarino, è il momento di uscire dai confini regionali e immaginare di costruire un polo macro-regionale subito. Infine, anche il direttore di confartigianato avanza richieste. Al commissario di Carichieti, Giangiuli, chiede di non far venire meno il ruolo di sostegno all'accesso al credito per tanti imprenditori locali che attraverso i consorsi FIDI faranno richiesta di finanziamenti per le imprese. Domani gli uomini della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forrestale si asterranno per tre ore dal servizio con assemblee dalle 11 alle 14 garantendo per legge servizi di emergenza. Lo stato di agitazione è stato proclamato contro i tagli al comparto sicurezza. Anche in Abruzzo, come in tutta Italia, domani gli uomini della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale si asterranno per tre ore dal servizio con assemblee dalle 11 alle 14 garantendo per legge comunque i servizi di emergenza. Questa mattina in una conferenza stampa che si è tenuta in questura a Pescara gli esponenti del SAP, SAP, SAPAF e CONAPO, Vigili del Fuoco, hanno spiegato i motivi della protesta. Domani avverrà uno sciopero, tra virgolette, una vera e propria estensione dal servizio di tre ore dalle 11 alle 14 e da parte di tutta la consulta a sicurezza. Consulta a sicurezza fatta da Polizia, Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Forestale. Domani ci riuniamo in assemblea all'interno dei vari uffici, dei dieci uffici di Polizia e degli altri corpi di Polizia appunto per forma di protesta in tutte le province dell'Abruzzo e così come avverrà in tutta Italia, per far sì che il governo, l'impegno che sta assumendo attraverso testate giornalistiche, quello dello sblocco del tetto retributivo, avvenga finalmente con impegni scritti, cioè risorse concrete, perché il nostro dubbio è che questo non avvenga. Anzi, la nostra paura è che i soldi che potrebbero trovare, che stanno promettendo per, non si sa quale modalità, lo sblocco del tetto retributivo, vengano trovati all'interno delle risorse del Ministero dell'Interno e della Difesa oppure del fantomatico FUG, il Fondo Unico di Giustizia, al quale la stessa ragioneria centrale si espressa dicendo che risulta impossibile. Gli esponenti delle sigle sindacali delle Forze dell'Ordine chiedono anche che si ponga un freno alla chiusura di importanti presidi sul territorio, fra cui quello dell'aeroporto di Pescara. Se dovesse chiudere infatti l'ufficio della Polizia di Frontiera, lo scaleo aereo, secondo i protocolli di Schengen, rischierebbe il declassamento. Non è assolutamente uno sciopero, perché noi non possiamo fare sciopero, assolutamente, quindi sarebbe da un procurato allarme, comprende, dire non c'è la Polizia. È chiaro che vengono garantiti i servizi operativi, le emergenze, come i vigili del fuoco, la penitenziaria, la Polizia col 113, però tutto il resto delle attività collaterali subiscono un rallentamento, obiettivo perché il personale è autorizzato ad partecipare all'assemblea, rallentamento, come noi diciamo, delle nostre retribuzioni negli ultimi quattro anni. La cronaca. Sono stati fermati dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile nella zona della colonnetta Chietiscalo e trovati in possesso di due grammi di marijuana. Protagonisti, due studenti universitari fuori sedia, un 23enne proveniente dalla provincia di Foggia e un 24enne della provincia di Frosinone, entrambi incensurati. Il primo che studia Chieti è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari. Nella sua abitazione i militari hanno recuperato altri 250 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento in dosi e la somma contante di 1.200 euro in banconote di piccolo taglio. L'altro studente universitario, occasionalmente nella zona, è stato denunciato in stato di libertà. A Lanciano sono aperte le iscrizioni per diventare tecnico meccatronico all'ITS Sistema Meccanica. Iscrizione aperte fino a ottobre. Dopo i primi tre corsi di tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici, l'automazione dei sistemi meccatronici e l'innovazione di processi e prodotti meccanici di supply chain e dell'intero flusso logistico, l'Istituto Tecnico Superiore Meccanica di Lanciano si è appressa ad avviare un nuovo corso, questa volta orientato a ICT e meccatronica. Sono infatti aperte le iscrizioni fino all'11 ottobre al nuovo corso per tecnico superiore e per l'automazione dei sistemi meccatronici con profilo territoriale su ICT meccatronica. Il tecnico meccatronico è un profilo di recente affermazione. La meccatronica è un'evoluzione moderna dell'ingegneria meccanica e si dedica allo studio e applicazione di sistemi meccanici intelligenti, in particolare tutti quei prodotti industriali definiti smart. La durata del corso che prenderà il via subito dopo le prove di selezione fissate a fine ottobre è di due anni per 1800 ore, delle quali 1000 di attività didattiche e 800 di attività di project work costage in azienda. L'orario giornaliero è indicativamente di 8 ore, la frequenza è obbligatoria. Il corso, completamente gratuito, è destinato a candidati occupati, inoccupati o disoccupati in età lavorativa, in possesso di diploma di scuola media superiore quinquennale rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione e possessori di titolo di studio straniero equipollente. La domanda e il bando sono scaricabili dal sito internet innovazioneautomotive.eu Il Corpo Forestale dello Stato ha sottoposto a sequestro preventivo successivamente convalidato dal PM del Tribunale di Vasto due collari correttivi e elettronici utilizzati come mezzo coercitivo per soggiogare due cani da tartufo. L'attività investigativa è stata intrapresa dal Comando Stazione Forestale di Gissi a seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini sulla presenza di due cercatori di tartufo in area ad alta vocazione tartufigena di tartufo bianco in località Carunchino e in periodo di divieto generale di raccolta. Alla vista degli agenti, i due tartufai sono fuggiti dandosi alla macchia, mentre i cani a loro seguito si sono fermati vicino al loro fuoristrada. Al collo di due cani era applicato un collare elettronico in funzione, un dispositivo correttivo a impulsi elettrici in grado di infliggere tramite un comando a distanza scosse molto dolorose agli animali per condizionarne riflessi e comportamenti. L'uso dei collari elettronici, sebbene reperibili in commercio, spiega la forestale e da considerarsi vietato alla luce della normativa penalistica tutela degli animali. I due fuggitivi, rintracciati dopo alcune ore di ricerche, anche con l'ausilio del personale del Comando Stazione Forestale di Montazzoli, sono un abruzzese 48enne residente a Palmoli e un molisano 50enne residente a Montenero di Bisaccia. Gli agenti hanno deferito alla Procura della Repubblica di Vasto il proprietario dei due cani per il reato di detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Inoltre, per le violazioni amministrative è stata elevata a carico di entrambi i cercatori una sanzione di 466 euro, oltre al ritiro dei tesserini di idoneità. La pagina dello sport, iniziamo dalla Virtus, vigilia di campionato per il Lanciano, chiamato a riscattare il clamoroso tonfo interno contro il Frosinone. I rossoneri promettono battaglia. Virtus al riscatto dopo la clamorosa sconfitta interna, le prime certezze che vacillano. Da queste parti l'abitudine era ben diversa. Squadra pugnace determinata, poco o nulla di propizio concesso agli avversari. Meno male che già vigilia si volta dunque pagina con la curiosità di conoscere se la scoppola interna ha scatenato conseguenze negative sul morale rossonero o dalle cinque reti subite si scateneranno rabbia e voglia di rivalza. A Brescia ci sarà comunque da sudare contro una squadra che in casa sinora non ha realizzato nemmeno un gol e che promette appunto il primo successo stagionale. Niente da fare per Piccolo e Ferrario infortunati, Tiame al suo secondo turno, risqualifica, ne manca ancora uno. Contro le rondinelle mister D'Aversa cambierà almeno quattro elementi. Rientreranno Aquilanti in difesa, di cecco a centrocampo. In attacco Cerri supportato probabilmente da Grossi e Gatto. Intanto la tifoseria riflette e non manca qualche mugugno. Sono rimasto male per i cinque gol però sono molto fiducioso perché so che è un gruppo ben assortito e ci rifaremo immediatamente a Brescia perché conosco il valore della squadra, il valore dell'allenatore e soprattutto il valore degli acquisti del direttore Luca Leone, mio grande amico. Io ancora riesco a digerire bene la situazione. Non accetto proprio una sconfitta del genere. Io penso che troppi cambi. Io la squadra non l'avrei cambiata. La formazione poteva essere cambiata in alcuni giocatori che erano infortunati ma cambiarla così pesantemente c'è mancata la grinta, c'è mancata la reazione che di solito noi abbiamo quando siamo in difficoltà. E' sembrato un po' troppo diciamo nella squadra di Lanciano che non ho mai visto una cosa del genere. E come ci si rimane? Sono riuscito, sudato a morte. E come reagire? Andando allo stadio. E a Brescia? Sarà dura? Non perdere. Tutto qua. Per me non è successo niente. Sì. Preoccupato perché abbiamo visto tutti una squadra, non lo so, forse il caldo, ma una squadra molle, non combattiva. Una squadra di B, una squadra di B, che non c'è un super portiere, super portiere, retrocede. Non sono passati indifferenti gli applausi della curva sud alla fine. Certo. Applausi sempre a questa squadra, potete sempre sostenere questi ragazzi come gli anni passati. Siamo sempre una provinciale e quindi la mentalità di applaudire, di sostenere, fino alla fine del campionato. Sempre. Domani si parte per Brescia, pronti il pulmino per il Rigamonti e andiamo a sostenere questi ragazzi, sperando di portare anche i tre punti. Grazie a tutti. Arriva in latina degli ex, in molti dal dente avvelenato, reduce dalla sconfitta interna contro l'Avellino, al cospetto di un Pescara che mastica amaro in piena crisi di risultati, già in ritardo in classifica rispetto alle attese. Se non è crisi poco ci manca e solo una vittoria risolleverebbe l'animo del popolo bianco-azzurro che manifesta profonda delusione. Laziale in campo con un probabile 3-5-2, schermo usato da Beretta in queste prime quattro giornate, davanti a Farelli in porta in difesa della Fiore, poi il primo ex Riccardo Brosco e il capitano Cottafava. Centro campo sulle fasce l'esperto Angelo, un altro ex bianco-azzurro Andrea Rossi con al centro Crimi, Bruno e la possibile sorpresa Federico Viviani lasciato andare proprio dal Pescara nel calcio mercato scorso di gennaio. In attacco Paolucci affianca il nome più caldo, quel Ferdinando Sforzini in rotta con la sua ex società con dichiarazioni al vetriolo. La Riete ha già realizzato con la casacca del Latina due gol. Per il Pescara tanti dubbi in conseguenza di un'infermeria non proprio leggera. Salamon ha dato forfè, Maniero è a mezzo servizio, Caprari, Milicevic, Memusciai, Conda Silva non sono ancora pronti alla causa. La certezza è che rientrerà Lazzari a centro campo e che in avanti il mister Baroni si affiderà a Politano, Melchiorri e Pasquato. A loro il compito di realizzare, ma la difesa ha l'obiettivo di arrestare una preoccupante emorragia. Troppi sinora, i gol incassati. Il Tg Max termina qui, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che Tg Servizi e Programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it Ci trovate anche al nostro canale YouTube e ai profili ufficiali di Twitter e Facebook. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Grazie per l'attenzione, arrivederci.